Brizze antidroga tra i vicoli del quartiere Providenza a Caltanissetta. La polizia infatti ha scovato diverse dosi di ascici occultate in un vano del contatore dell'acqua. I controlli sono scattati sabato sera da parte dei poliziotti del nucleo volanti che hanno attenzionato la via Laimo dove alcuni cittadini avevano segnalato un giro di spaccio. Gli agenti, avvicinatesi a piedi nel vicolo, hanno notato due persone che parrottavano tra di loro. Uno è stato notato mentre occultava un sacchetto all'interno di un vano contatore dell'acqua. Dei due individui di nazionalità straniera, uno si è accorto subito dall'arrivo dei poliziotti fuggendo. Il secondo, che dava le spalle agli agenti dopo aver chiuso il vano porta a contatori, ha cercato anche lui di allontanarsi ma è stato bloccato dagli agenti. All'interno del vano porta a contatore, i poliziotti hanno rinvenuto un calzino di spugna di colore nero con all'interno 18 involucri di marijuana e dalla prequisizione personale eseguita sul sospetto pusher, risultato essere un cittadino malese di 24 anni in possesso di regolare permesso di soggiorno e saltato fuori un altro involucro di marijuana simile a quelli contenuti nel sacchetto, nonché la somma in contanti di 125 euro, verosimilmente provento dell'attività di spaccio. Complessivamente la droga sequestrata pesava 15,82 grammi. Il giovane è stato portato in questura e denunciato di stato di libertà alla Procura della Repubblica per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.